signori e signori per voi il maestro Davide Salvi grande applauso che questa sera ci farà ascoltare due brani grazie io eseguirò un paio di brani visto che è già tardi passo subito la parola alla fesa armonica il primo brano è un waltzer uno dei primi brani scritti da Carlo Venturi che si chiama Grande Amore waltzer poi per quelli dopo ne parliamo signori e signori suona Davide Salvi dirigere dell'orchestra Stefano Domenichini un applauso grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti